Siamo qui a fare il King of Fighters. Io sono il allenatore di... Di? E tu mi ricordi? Terry, Terry Adam. Oggi sono venuto in compagnia della famiglia. Dalla mia sinistra è Petrolita, da Lulita. Petrolita, Alessandra Di Porto, Sharon Di Porto, Alessandra Di Porto, Sara Di Porto, Sara Di Porto, Sara Di Porto. Sono un'ennegrina però. Ma gliela fate a farsi sardi? Io pure mortali gli faccio. E poi non vedi che poi arrivassi dal Ciampino, il paese dei mostri proprio. Tutte le viette interne, senza Tontom sono arrivato. Allora a un certo punto Sara mi ha detto, chiedevi via a tutti, mi dicevano ma non lo sapevo, ma che ne sono andostata a Stazione Pina? A un certo punto Sara se ne esce, basta un cane in basotto, mi ha detto io devo comprare il cane andostata. E ce l'hai la catenina del Lazio, perfetto, e tu gli fai un attimo la scena che lo prepari e poi gli dai Porta la Fortuna. L'amuleto e gli dai in mano sta catenina del Lazio, ok? E' bello, devi cominciare a mettere il tuo tiro. E come hai fatto l'altra volta di mettere il tuo tiro. Ma ricordate il vecchio stile? Tutti i muscoli lucidi, come lo vede. Perché un campione Davide ha bisogno anche di uno stile. Oh Johnson, guardate che roba. Che è questo? Il Johnson no, è il meglio io proprio. Il meglio io del figonzo, proprio. Molto bene, buona idea. E ora ho un match contro il D3. D3? È così piccolo. Meno presso. Meno presso! Un uomo di vetro! Un uomo di cacca! Di vetro, vetro, vetro! Chi vi è vetro? Ah, vetro! E questo? Il wrestling, il wrestling, andate per i risorti. I risorti che faccio tutto. Ancora uso questo wrestling. E il wrestling. No, il wrestling. Non è il wrestling. Non c'è roba, tu frafro. Dimmi che non è in camera frafro. C'è lui. Che c'è l'assertaggio! E il wrestling, il fatto bellissimo amare. E il figlio. E il fanno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.